Da anni ormai la festa della fine della scuola a Montevarchi si fa in piazza, perché? Perché noi mettiamo la scuola al centro, la scuola al centro da 0 a 18, da bambini del nido dove siamo riusciti a non avere lista d'attesa, ai bambini della scuola materna dove non abbiamo di nuovo lista d'attesa alle scuole primarie, alle medie e alle superiori. E da 0 a 18, siccome la scuola è al centro, la mettiamo in centro, per vedere non una festa, ma per vedere i lavori che durante l'anno con impegno i ragazzi hanno fatto. E qui va dato veramente un plauso ai nostri insegnanti, perché malgrado i mille problemi che come tutti sanno e vedono la scuola attraversa, ce la buttano tutta e hanno una risposta. Qui c'è il futuro, i risultati di questo lavoro li vedremo tra molti anni. Però è un lavoro di un anno che portiamo qui. Chi vuole viene a vederlo, perché non è giusto che sia soltanto il babbo o la mamma o lo zio a vederlo, ma sia l'intera città. Lei ha parlato di lista d'attesa, che prospettive ci sono per il prossimo anno? Riuscirete a mantenere comunque le liste di attesa a zero? Sì, ma per quello che mi risulta, per i nidi non ci dovrebbero essere problemi, quindi dovremo dare risposta a tutte le persone che si iscrivono. Per la prima volta, da quel che mi risulta, non abbiamo attese alle scuole materne, quindi diciamo che in confronto a qualche anno fa la situazione è profondamente cambiata e questo è una soddisfazione perché è il frutto di un lavoro molto impegnativo e di successo abbiamo avuto.